allora voglio farvi vedere come realizzare questa sciarpa che io ho già da qualche anno è stato uno dei primi lavori che io ho fatto a uncinetto e ho utilizzato un filato vedete bello grosso già così era molto bello io ho comprato prima il filato e poi ho deciso che cosa farci perché mi sono proprio innamorata di questo filo è un filato tutto con bello grosso è tutto colorato con questi bellissimi colori che a me piacciono tanto e ho cercato per farla un punto che fosse leggero non complicato perché ovviamente un filato così lavorato non fa vedere il punto cioè è inutile fare punti elaborati perché non si vedrebbero con un filato tutto colorato in questo modo e quindi ho scelto un punto molto semplice che adesso vi faccio vedere e ho realizzato vedete questa bella sciarpona un uncinetto piuttosto grosso il filato era bello grosso anche l'uncinetto era grosso proprio perché comunque abbia spessore anche la sciarpa e è bella vedete bella calda infatti e da ultimo ho fatto anche una rosa io ho un tutorial per vedere come fare le rose uncinetto vedete ho fatto una rosa che ci ho attaccato e che utilizzo poi rimanendo sempre davanti sul davanti della mia sciarpa però al par la rosa a parte se anche non vi piace questo è la sciarpa guardate com'è bella e è un punto semplicissimo e velocissimo da fare questa sciarpa si fa veramente in pochissimo tempo questo è il verso del punto la lavorazione vedete sono semplicemente degli archetti con delle catenelle sopra e sopra vedete ce n'è un altro sono tutti archetti che entrano dentro gli archetti per per così si lavora in giri di andata e di ritorno vedete e lo schema è veramente semplice e rapidissimo da lavorare soprattutto appunto se avete un uncinetto bello grande e un bel filato questa schema si ripete su tre maglie che è una maglia dove lavoreremo più due maglie lasciate vuote di spazio quindi ogni v che vedete richiede tre maglie per essere lavorata quindi nel mio schema originale io ho utilizzato un uncinetto numero 10 e un filato molto grosso quindi ovviamente a seconda delle dimensioni del filato anche se utilizzato un uncinetto 10 potrebbe venirvi più grande o più sottile il lavoro quindi provatelo questo come larghezza è circa 24 25 cm ma appunto essendo una sciarpa vedete un po voi la larghezza che vi piace voi fate una prova e vedete un po quanto quanto la volete fare larga allora io qui l'ho ripetuto una due tre quattro cinque sei sette volte quindi 7 per 3 fa 21 più ancora due maglie quindi 21 22 e 23 quindi sono 23 maglie di base più due maglie per salire perché al posto della prima maglia alta io faccio due catenelle quindi voi fate un multiplo di 3 se quando caricate le maglie un multiplo di 3 più altre due maglie che finisce sempre con altre due maglie in più o inizia con due maglie in più quindi due maglie in più quindi due maglie più un multiplo di 3 e poi due maglie per salire e questo è quella originale adesso io ve la faccio vedere con un uncinetto un po più piccolo e questo filato io ho avviato allora io ho avviato 15 catenelle più 2 quindi 15 perché è su 3 io ripeterò cinque volte le v quindi 5 per 3 15 più 2 fa 17 più 2 ma due catenelle che sono la mia prima maglia alta quindi io ho fatto 15 più 2 più 2 come per avviare quindi le mie prime due ma due catenelle sono la maglia alta poi carico il filo vedete queste due quindi sono la mia maglia alta e questa e questa sono le due maglie che io lascerò vuote dentro quindi qua nella terza maglia di base faccio una maglia alta poi faccio una 2 catenelle e poi faccio ancora una maglia alta sempre entrando qua nella stessa maglia di base della prima una e due vedete io semplicemente ho fatto una v a parte la prima maglia che è una maglia alta poi ho fatto una v adesso carico nuovamente faccio un'altra maglia maglia alta saltando due maglia di base quindi questa è quella vedete dove io sono entrata questa è dove io ho già lavorato quindi 1 e 2 le lascio vuote dentro qua nella terza faccio ancora quindi una maglia alta che è attaccata all'altra maglia alta non ci sono catenelle in mezzo le catenelle stanno qua al centro di questa v quindi due catenelle e un'altra maglia alta nella stessa maglia in modo che vengano proprio vedete come delle v chiuse da due catenelle e qui io ho fatto una maglia alta e faccio subito un'altra maglia alta quindi saltando quindi due le lascio libere dentro nella terza faccio una maglia alta poi faccio una 2 catenelle e un'altra maglia alta qua sempre nello stesso spazio ok ancora carico il filo 1 2 le salto entro nella terza e faccio una maglia alta poi faccio una maglia alta 2 catenelle e un'altra maglia alta sempre qua nella stessa poi ancora una maglia alta 12 le salto entro nella terza faccio una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso spazio ecco qua e finisco con una maglia alta saltando due di base ed entrando nella terza faccio una maglia alta ecco qua quindi questa è la base della mia piastrella vedete io ho ripetuto cinque volte questo motivo poi avrò una maglia alta di qua e una maglia alta di là allora adesso saranno sempre uguali poi punti quindi io salgo con due catenelle poi io faccio una maglia alta in questo archetto quindi che io ho creato fate attenzione a non entrare qui dovremo solo fare attenzione ad entrare sempre dentro gli archetti quindi fate sempre attenzione vedete questa è da dove partano le due maglie quindi questo è l'archetto non entrate qua fate attenzione a non entrare in questi spazi che sono al contrario vedete aprano così noi dovremo entrare sempre in quelli che aprano così c'è da partano da una maglia con due maglie alte e l'archetto di due quindi io entro qua e rifarò un altro archetto quindi faccio una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta questa volta e per tutti i prossimi giri io lavorerò sempre così vedete entrando direttamente dentro gli archetti precedenti quindi adesso carico il filo entro nell'archetto seguente e faccio una maglia alta 2 catenelle e una maglia alta sempre nello stesso archetto e sempre facendo attenzione a non entrare in questi spazi qua che sono vedete che allargano noi dobbiamo entrare in quelli che sono archetti già del giro precedente quindi dobbiamo solo fare attenzione a non sbagliare se non sbagliamo vedete che questo lavoro è veramente rapido si farà prestissimo a fare la nostra sciarpa è un lavoro veramente rapido e anche molto bello cercate di rimanere un pochino lenti con il lavoro in modo da dare proprio morbidezza alla sciarpa se dovete fare una sciarpa ecco noi facciamo sempre così quindi entriamo facciamo le nostre maglie alte 2 catenelle e un'altra maglia alta sempre qua nello stesso quindi facciamo sempre questa v composta dalle due maglie alte 2 catenelle per tutte le v che abbiamo sotto che saranno sempre 5 perché non sarà sfalzato questo lavoro ma sarà sempre uguale quindi noi la v questa v la faremo sempre dentro la v precedente quindi vedete anche qui ne ho 1 2 3 4 e 5 come erano prima vedete e il lavoro anche qui finirò con una maglia alta riagganciandomi quindi a queste catenelle con le quali sono salite prima quindi alla seconda catenella con la quale sono salita nel giro precedente 1 e 2 faccio una maglia alta poi ancora faccio 2 catenelle che sono la mia nuova maglia alta e continuo il lavoro quindi lo giro e rifarò lo stesso modo quindi entro dentro questo archetto sempre facendo attenzione ad entrare negli archetti e rifaccio sempre maglia alta 2 catenelle maglia alta sempre uguale non cambia mai qui non c'è un giro di dritto e giro di rovescio sono dritto e rovescio sono una volta su un lato una volta dall'altro quindi la nostra piastrella o sciarpa o quello che è non avrà un dritto e un rovescio ma sarà sempre così e quindi io vado avanti sempre così adesso io ne faccio un pezzo perché io farò la mia piastrella per il progetto della mia coperta della quale poi vi metterò il link alla fine di questo video sto facendo una coperta a piastrelle quindi questa sarà una piastrella della mia coperta ecco finito la mia piastrella qui non c'è bisogno di fare un giro perché in realtà rimaniamo sempre con lo stesso numero di maglie non sono dei veri e propri archi ma è un punto che rimane comunque con lo stesso numero di maglie quindi noi qui alla fine avremo lo stesso numero di maglie che abbiamo all'inizio quindi non c'è bisogno di rifinire il giro ma il giro si rifinisce da solo quando decidiamo di fermarci e questo è il punto che io appunto ho utilizzato per la mia sciarpa io poi ho abbinato un fiore potete metterlo quello non ha niente a che vedere con lo schema quindi questo è il nostro punto ad archi con le maglie alte grazie a tutti